Seat sbarca nel mondo dell'elettrico con Mii alla cinema sul set dell'ultimo film di James Bond a bordo di Land Rover Defender. I centri AMG Performance d'Italia vi aspettano per una due giorni di porte aperte. Seat compie il primo passo nel mondo del 100% elettrico con Mii, vettura ideale per la guida di tutti i giorni in città grazie al suo mix di prestazioni, efficienza e versatilità. Monta un motore elettrico da 61 kW e una batteria agli ioni di litio da 32,3 kWh. Può raggiungere i 50 km orari in appena 3,9 secondi e ha un'autonomia fino a 260 km. Questa city car 100% elettrica offre molteplici opzioni per ricaricare la batteria all'80% delle sue capacità in appena un'ora. Si tratta, come dicevamo, del primo passo di Seat nell'elettrico ma che sarà accompagnato dal lancio di altri modelli, inclusa la L-Born totalmente elettrica e le ibride plug-in di Tarraco e Leon. La nuova Land Rover Defender arriva al cinema sul set dell'ultimo capitolo della gloriosa storia di James Bond, No Time to Die. Per guadagnarsi la parte, il fuoristrada sub della casa ha dovuto superare prove durissime in ogni condizione, specialmente in off-road, grazie alle sue caratteristiche come l'altezza dal suolo e gli angoli di attacco, la Defender è praticamente inarrestabile. Nel film si vedrà una Defender X in Santorini Black con skid pan anneriti, cerchi scuri da 20 pollici e pneumatici professionali da fuoristrada, appuntamento al cinema dal 2 aprile del prossimo anno. Preparatevi perché nel weekend del 16-17 novembre i 12 centri AMG Performance d'Italia sono pronti ad accogliervi per farvi vivere emozioni pure. Un marchio capace di conquistare il cuore di 118.000 clienti in tutto il mondo, oltre 1.000 nel nostro paese. Un trend in costante crescita che in Italia nei primi 10 mesi del 2019 ha guadagnato un incremento di oltre il 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il weekend di Porta Aperte sarà l'occasione per scoprire le nuove arrivate GLC 43 e 63 insieme alla nuova brutale classe A45 che con i suoi 421 cavalli di potenza promette di far divertire anche gli smanettoni più scettici.